Se si desidera eliminare gli eventi in i Passant Manager, iniziare facendo clic sul pulsante di monitoraggio, quindi fare clic sul pulsante di eliminazione. A questo punto, inserite il numero di giorni di cui volete conservare l'elenco degli eventi, oppure fate clic sull'opzione Elimina, in base al seguente filtro, per eliminare eventi più specifici. Infine, fare clic su Convalida per eliminare gli eventi scelti. Grazie a tutti.